I francesi si sono ripresi la loro libertà, il bipolarismo è finito, ha commentato a caldo al termine del primo turno delle elezioni amministrative francesi una raggiante Marine Le Pen. La leader del fronte nazionale ha votato a Enam Beaumont, comune poi conquistato dal suo partito fin dal primo turno. L'estrema destra va al balotaggio in centinaia di comuni pur restando lontana nel dato nazionale da socialisti e UMP. Il grande sconfitto è il partito socialista di François Hollande, anche se probabilmente al secondo turno riuscirà a recuperare un buon numero di amministrazioni, ma è il dato nazionale che è pesante per il partito, tanto che è stato lo stesso primo ministro Ero a lanciare un appello a tutte le forze democratiche per un fronte comune contro l'estrema destra. L'UMP, che esce vincitore da questo primo turno ed è in vantaggio anche a Parigi, sembra però guardare piuttosto a destra il suo leader Jean-François Coppé e si è limitato ad augurarsi che al ballottaggio gli elettori frontisti votino UMP. Da parte sua il fronte nazionale non dà indicazioni agli elettori, laddove non c'è un candidato frontista al secondo turno votino per chi vogliono, ha detto Marine Le Pen. La stensione ha toccato picchi del 40% battendo ogni record.